auguri per un natale autentico in cristo e un sereno 2021 a tutti quanti voi alle vostre famiglie un augurio di sereno e santo natale buon natale auguri ragazzi buon natale ricordate che vi voglio bene e auguri a tutte le famiglie ciao cari genitori un buon natale a tutti voi alle vostre famiglie voglio ricordarvi che il natale è la nascita di gesù bambino e questo bambino che entra nelle vostre case porti davvero felicità serenità salute a tutti quanti buon natale e buon anno nuovo grazie a tutti